tutte le ragazze in questo nuovo video di minecraft 1.7.4 un posto porco il lago il suizio e ora ora vorrei aspettare che si fa notte per recuperare i livelli che abbiamo speso per riparare la cesta solo che il sole abe tra un po' tramonta tra un po' tramonta da notare il gioco di parole o per quanto io lavoro con uno schia l'unico generato uno schiavo egizio esagerato ma si scende la troia si con questo per pt come lì che non è sentita perchè non ha un senso certo non ho senso un sesso certo sesso alto ben teoricamente dovrebbe averlo che siamo entrambi di sesso maschile maschio quindi il canale caderemo le spiega del castiglio mica il sesso alto quando selezioni il profilo maschio femmino un altro no non si dovemo cosa metto e poi è nostro maschio io sono un unicorno no poi non ho capito non riesco a capire chi è il genio che nel consiglio di google ha detto ba io metterei no maschio no c'è un'offesa no mettiamo altro ma per me che c'è qualcuno che viene dal pianeta marte e chi è un ucchio corno cosa fa scusa un ucchio è un unicorno si registra su google e mette anche effettivamente non è una logica sbagliata solo se gli unicorni non so se sappiamo usare google hanno un computer i unicorni un'altra cosa il corno mi sa che non ho oddio no lo sferma di un unicorno ecco il pallino ok oddio no 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 non è impossibile ma gli unicorni esistono sì certo davvero sì non vedete il boni però no nono che il codici non hai visto l'unicorno no c'è chi è visto questo non ho detto su un'unicorno aggiusto visto da quindi se unico quindi punto che ho visto un'unicorno hai dato la bozza l'acqua questione commissione dubbio ti butti ad esempio 5 buoni non si fa fare il grano non sto prendendo maia sei cuori di oscuro guarda riccanto lo schifo eh fammelo prima togliar tutto entro un attimo in casa sono qua il programma che ora è di notte infatti non ti assicuro che troverai l'orto sistemato c'è un clipper sopra casa non farla avvicinare sono questo cazzo ok ok mi serve più come sto ok 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 ho l'isciuto non mi sono arrivati due zumbi dal dietro ci sono stati in tutto 3 quanti cazzo sono 1 1 si foto da camminata roda don't don't o di anche se la foto stupido mi chiesto per me una carota io allora torno nel deserto ento detto di tutto cosa andate se non lo accassero mamma mia aiz 8 8 8.it la ok il motore 2.6 ma perchè è che è un scuola obbiettivi non c'entri così uccidino d'arizo o pagliato oggi sono stati sono stati sono stati tante e io che me ne faccio strambo aglio io mi ho stato male tutto tondini ok o 29 livelli bene slanto lo guarda quanti slanto prevo che per me le roglie finisce no che lo presto cerchiamo di andare a metterci sono paglia questo spazio non è stato un conto post ades esplode nel deserto chissà e non esposo nel deserto agli 2 esplodo d il grano basta 3 morti demo faccio parlare di tempo libero con il primo in cantare oddio c'è un limone allora agli atto anch'io sto stupendo sin sony game con il mandio sono un discorso il tuo contesto testo si vuole un altro posto sicuro che se un unicorno se poi se un buco ormai s un'endermen un aspetto c'è l'esperienza xp aspetto a farmi prima trenta livelli endermen ed ecco 2 endermen no una storia ecco 4 5 conti caruso perchè quando tappo gli animo in nata oggi sono morto sono morto sono morto fa 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 ok ho ucciso un endermen non rompere un mezzo post città portatezò un pittorio non lo spaventano 4 scuola scuola in casa c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno c'è uno c'è una spada il ferro di gioco il oh mio dio si perdono 29 livelli mamma mia no io ci sono andermen si ma se scemo si si c'è una cosa in casa il bagno nell'aspetta che c'è il giorno va vai dalle mucche piuttosto livello se lo fa vabbè mamma mi sono andata non faccio cazzo un mini scappa 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 un mini un mini schede tipo esistono c'è una zona che mi insegna parte ma per me dovrebbe essere un mini post un ueva parma ma io oi il schiocchi per perché di te ok tutti tutti ok ammazzini ok 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 che cosa non cattus uno zumbi ok 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 ma perché sono schede di becco io non è possibile e' una cosa che non paura come farmare internet usciti giocatore cuore 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 c'è un po' di costi costo cosa e' un po' di corto un po' di nero me anche un po' voglio non parlare sto sto questo è un po' di sostegno perché c'era il giorno sono morto 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 no cazzo c'era uno scritto e sto limonando con il giovane l'acqua ho fatto tutto sto non ho esplodere esploso in aria stavo esplodendo l'ho colpito con ciocco nottec volato via esplosco non ho troppo liberta un buon modo per formare soldi casi effettivamente diciamo solo non mi fanno niente ti spaccano su armatura male oddio so oddio la mia armatura un po' per la vita di parola che ci vuole dire di indio e lo so c'è 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 uno scheletro oddio d'oro tutto in saltato pure l'arco io mi ha trovato il mio lavoro coro però non c'entrò no uno scheletro limonato con l'arco arcobaleno ok non ci diamo sto scheletro ma il nome altro la c'è scritto sta andando a futuro forse perché ho quello che ha tornato euro ok così così 30 livelli che questo qui tutto raggiunto non lo so io sono 29 ero e ma io ho incertato in giocatore avevo riparato la punti ora c'è scritto trenta livelli qui che è l'utilizzo per altri intervento no e c'era uno gioco in a casa c'era uno vicino a casa che stava facendo il campeggio mandato odio chiedere un gioco dove esploso esploso e direi costito un voto la mamma asalto si ha bucato caso cazzo dici bucato caso sul retro no c'è un enderman sul tetto non chiedermi il perché aia stavo stupendo gesù sei scemo cazzo cazzo io amo adesso ero foto posto non lo po' riparite sto a aia ma che ti faccia una cosa non amichevole se lo puoi acqua aito vento dietro dietro se lo sono attacco e sono morto perché pochissimi vorrei aia questo prendendo tutti anch'io santo muori schifoso oltre treda credo a parte sono ben giocatore tu sta a me la larga un po' tu no tu devi stare a raggio di 100 metri da me te lo dico non ti avvicinare hai capito certo tu porti sfiga 3 livelli un brindale 3 protection 3 cosa un breaking 3 protection 3 su cosa su cosa e chat carino ah io la devo già riparare ma poi chichi chichi un breaking 3 gesù quanto dura eh ma dai ce l'ho anche un breaking 3 ma è fattibile cioè è indistruttibile praticamente eh la mia sera sta già andando punto ma per ma te che stai fa che stai facendo esplodere stai facendo da cavia per le esplosioni nucleari atomiche sub atomiche mi spiaggia spiaggia non fai la garistica mi dispiace ma è impossibile io santo devo riparare che cosa devo riparare la cesta e anche la casa io ho scenduto che ho fatto espondire i perio e se tecnici anche che c'entra c'è una esplosa davvero uscite vabbè adesso è entrata secondari ma si dice non amo e si si di niente da me gli amanti c'è da se stiamo finendo lo so lo so poi ci vediamo in altri 20.000 diamanti in biniera che poi ne bastano 10 che ti conescono tra dentro no non posso ripararla 2x davvero insi no nonostante e otex 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 la cosa proprio un po' che faccio davvero io dico expensi se non può no per forza si deve riparare non ho mai fatto quanti i livelli ti chiede no metto un diamante mi dice tu e spesso expensi davvero aspetta troppo mi fanno vedere a me no non c'è impossibile guarda com'è già consumata che sta c'è io ho detto che dovrei capire un altro sto punto per me eh sì se non tra i parti allora vediamo passami davanti aspetti aspetta il voto tonti due proteccion 4 un break in 3 eo p è il problema è il protection 4 guarda come è andata giù la durabilità eo p sì sì almeno studiato cosa un po' che c'è 3 2 expensive no non posso un po' sovrida no che tristezza un po' di farla la città no 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 sì sì no no zizzi zonzo e allora è tutto il diamante ma che non abbiamo nemmeno più piccoli occhi e quindi è come facciamo scavare e abbiamo piccoli consigli taci ma si scema guarda quante coso mado 32 ossa cd io sono tanto sto sto formando così mostro da accettare piccone 30 livelli anch'io mi amante si no passano a me perchè te porti sfida no no sì sì faccio io porti sfida tanto sono sicuro che non esce il sito c ma a testo esce il sito scommettiamo zitto 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 ecco sta zitto vedi mutati fischi ok incontriamo si dammi da non l'acca allora ok 30 livelli trenta livelli per sui ciscic tacci 1 te lo ho detto cos'è uscito che c'è se quattro ombre che in tre il mio vecchio piccara lavoro che bello hotel ma qui va riparato il buco mi porti la terra no te lo prendete test veramente vergogna per cui devo andare su alla piattaforma non ci vuole dire che per tutti i blocchi di terra test 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 vabbè ok proposte non vuol dire tutto tutto suzuzu ok chi troppo vuole xd xd 1 niente stringe 1 oppure non si può per esempio quello che si vuole pura nello scuole era già spavolato uno scherzo guarda morisci non deve volerlo scherzo moschel io non mi chiamo che c'è cura no a posto c'era c'è il resto che lo feccio tutto muo post s t tettere dove è che è sposo il tuo figlio ciro no adesso il costo di scipolo mette di costruzione dietro casa perchè hai fatto a te ho fatto in certo l'ho stato io e ora c'è fatto io lo so com'era è giusto che dopo te metti i cobi i blocchi di cobre sono a caso 15 g allora questo via il grano qua ma no abbiamo troppo grano veramente dopo vado a a coltivare le mucche e a a nutrire le mucche a coltivare le mucche non sai le pianti le fertilizzanti si no e abbiamo anche un botto di netherworld sarebbe il caso di fare qualche pozione OP posto la alascia lascia piantata e non lasciato perché per la destra si i paddini mi serve tipo uno stack di dirti tivoli ciumi minierano ma cercare di amonti ma certo come non c'è tanto stai facendo niente come non sto ricostruendo casa no e me tu farlo anch'io allora però se vuoi proprio e offrire offrire tifo luce no no ti sei offerta avrei fatto anche prima però non c'è certo certo non abbiamo neanche i blocchi in giocamazzo benico colpa mia amico il primo capito il vetro non c'è su l'abbè vai a prendere la sabbia dal clipe porco di soccaduto giugno di un porto di non dino buzzati aia sto andando fuoco di non buzzati che cittone devo tornare al studio santo s'accaduto no e non ti vergogni no proprio equilibrato tu non hai un futuro in cantieri di su un futuro un futuro mi casso così così non è da buttarmi in un cantiere che la nazione ti vuoi da un'altra avverti butti allora sicuro x guardalo mo arriva un creeper dal terreno perchè loro può loro fa sartarinario ce la fermo comunque dicevo non hai un futuro in un cantiere di vizio e la smetti di shopparmi male mamma mia che pro sniper che sono xdxd xdxd mi ha sento tutto 5 secondi e arrivo no no io ti uccido un fè no dio Cristo che voglio il film no se ti senti i taxi no devo portare il santo parte devo portare con la bandina ma chi se ne frega le l'avande ne ho portato il lavando scelto male vabbè io io l'ho detto fancorda camper stupido camper sei solo un camper no mi sa che non ho abbastanza cobblestone mi serve un altro fuggio di cobblestone qua no no ma quanto cobblestone che mi serve oh dannazione troppo cobblestone ho qua solo 46 pezzi mi manca tutto il contorno e poi da fare il tetto che poi tanto farà schifo perché io non so capace a fare queste cose da tanto che non ne faccio una oddio santo dai 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 oh ma qua riesco a buttarmi nell'acqua cosa? si mi sa di sì si forse riesco a buttarmi nell'acqua quindi non dovrei nemmeno farmi danno ok finito la foto questo valgina oh ce l'ho fatta che c'è un po' 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 veloce vai a letto sono un testo ok ok ma che espogna il mondo ah per questo caso una cosa , 6 tutto cosa ti permetti di fare bandiera non sto facendo bandiera ho fatto due piani di scale per due volte più o meno si tratta di lo stesso modo ok io credo che non lo vedo con il centro di ragazzi hotel media di quanto costo mi serve